Capitolo 31 Trascorsi tutto il giorno seguente al mare con Cam. Avevamo portato con noi la merenda, panini integrali con avocado, germogli e la maionese fatta da Susanna. Erano buonissimi. Ogni volta che entravamo in acqua ci restavamo per ore. Quando vedevamo salire un'onda, uno dei due scoppiava a ridere e poi finivamo travolti dall'acqua. Gli occhi mi bruciavano per il sale e la pelle era infiammata per tutte le volte che l'avevo sfregata sulla sabbia. Avevo l'impressione di aver usato l'esfogliante all'albicocca di mia madre. Era fantastico. Dopo tornamo ai nostri teli. Amavo rinfrescarmi in mare e poi correre al telo ad asciugarmi sulla sabbia. Lo avrei fatto all'infinito. Mare, sabbia, mare, sabbia. Avevo portato le caramelle alla frutta e le mangiamo così in fretta che mi venne il mal di denti. Io adoro le gommose alla frutta, dissi, allungando la mano per prendere l'ultima. Cam me la soffiò. Anch'io e tu ne hai già mangiate tre, mentre io soltanto due, disse, togliendo l'involucro di plastica. Sorrise e mi agitò la caramella davanti alla bocca. Hai tre secondi per consegnarmela, lo misi in guardia. Non mi interessa se ne hai mangiate solo due e io venti. Questa è casa mia. Cam rise e si infilò la caramella in bocca. Masticandola rumorosamente replicò, questa non è casa tua, è di Susanna. Beh, sei malinformato, questa casa è di tutti noi, risposi, tornando a sdraiarmi sul telo. Provai una sete improvvisa. Le caramelle avevano quell'effetto, soprattutto quando ne mangiavi tre in tre minuti. Con gli occhi strizzati gli chiasi. Ti va di andare a casa nostra e portarmi un po' di aranciata? Ti prego, dimmi di sì. Non conosco nessuno che consumi più zucchero di te in una giornata, disse Cam scuotendo il capo. Lo zucchero raffinato è veleno. Detto da uno che si è appena mangiato l'ultima caramella, ripattei. Il mio motto è né sprechi né eccessi. Si alzò in piedi e si scosse la sabbia dal costume. Ti porterò una bottiglietta d'acqua, non di aranciata. Io gli feci la linguaccia e cambiai posizione. Basta che ti sbrighi, risposi. Non si sbrigò. Passati 45 minuti, tornai a casa, carica di asciugamani, creme solari e immondizia, con il fiatone e assetata come un cammello nel deserto. Cam era in salotto, a giocare ai videogiochi con i ragazzi. Erano tutti con il costume da surf. In pratica stavamo tutta l'estate in costume. Grazie per non avermi portato l'aranciata, dissi, gettando la mia borsa da mare a terra. Cam sollevò lo sguardo dal videogioco con aria colpevole. Ops, colpa mia. I ragazzi mi hanno chiesto di giocare, così... La sua voce venne meno. Non scusarti, gli consigliò Conrad. Giusto, cosa sei il suo schiavo? Ora ti ordina anche di portarle da bere, aggiunse Jeremiah premendo il pollice sulla console. Si girò e sorrise per mostrarmi che stava scherzando. Io però non ricambiai per far vedere che me l'ero presa. Conrad non disse nulla e io non lo guardai neppure. Però sentii che lui mi guardava. Desiderai che smettesse. Per quale ragione, nonostante avessi un amico tutto mio, venivo comunque esclusa dal gruppo. Non era giusto. Non era giusto che Cam fosse così grato di essere entrato a farne parte. Per di più, quella giornata era stata fantastica. Dove sono mamma e Susanna? Domandai d'un tratto. Sono uscite, rispose vagamente Jeremiah. Forse per fare compere. Mia madre odiava fare compere. Susanna doveva avercela trascinata con la forza. Infuriata, andai in cucina a bere. Conrad si alzò e mi seguì. Non ebbe bisogno di voltarmi per capire che era lui. Io mi occupai delle mie cose, versandomi un grosso bicchiere d'aranciata e fingendo che lui non fosse là a osservarmi. Hai intenzione di ignorarmi? Mi chiese finalmente. No, risposi. Che cosa vuoi? Lui sospirò e si avvicinò. Perché ti comporti così? Poi si sporse verso di me. Vicino. Troppo vicino. Ne dai un po' anche a me? Io poggiai il bicchiere sul piano della cucina e feci per andarmene, ma lui mi afferrò per un polso. Forse rimasi senza fiato. Mi disse. Dai, Bess. Aveva le dita fredde, come il suo carattere. Di colpo mi sentì accaldata e febbricitante. Mi liberai con violenza dalla stretta. Lasciami stare. Perché sei così arrabbiata con me? Ebbe il coraggio di mostrarsi sinceramente confuso e preoccupato. Perché nel suo caso le due cose andavano a braccetto. Quando era confuso diventava preoccupato. Ed era raro che fosse confuso, per cui era raro che fosse preoccupato. Di certo non era mai stato preoccupato per me. Io per lui ero insignificante. Da sempre. Ti importa veramente saperlo? Sentì il cuore martellarmi forte in petto. Mi sentì suscettibile e strana mentre attendevo la sua risposta. Sì. Conrad parve sorpreso. Quasi non riuscisse a credere neppure lui di averlo ammesso. Il problema era che non sapevo fino in fondo perché. Per lo più ero arrabbiata per il turbamento che mi faceva provare. Il fatto che un minuto prima fosse gentile con me e quello dopo distaccato. Mi faceva ricordare cose che non volevo ricordare. Non ora. Con Cam stava andando molto bene. Ma ogni volta che credevo di essere sicura di lui, Conrad mi guardava in un certo modo. O mi faceva piroettare o mi chiamava Bels e tutto andava a rotoli. Ah perché non vai a fumarti una sigaretta? Dissi. Il muscolo della sua mascella si contraste. D'accordo. Provai un misto di senso di colpa e soddisfazione per averlo finalmente colpito. A quel punto lui ribatte. E tu perché non torni a guardarti un po' allo specchio? Fu come ricevere uno schiaffo. Fu mortificante essere colta in fallo e avere qualcuno che notasse i tuoi difetti. Mi aveva scoperta a guardarmi allo specchio, a studiarmi, ad ammirarmi. Adesso pensavano tutti che fossi vanitosa e superficiale. Serrai le labbra e mi stai da lui scuotendo lentamente il capo. Belli. Presi a dire. Era dispiaciuto, ce l'aveva scritto in faccia. Lo lasciai là e me ne tornai in salotto. Cam e Jeremiah mi fissavano come se avessero capito che era successo qualcosa. Ci avevano sentiti. Aveva importanza. Al prossimo turno gioco io, dissi. Mi domandai se fosse quello il modo in cui finivano le vecchie cotte, con un piagnucolio lentamente e poi, puff, più nulla.